Come preannunciato la scorsa settimana è partita la demolizione dell'ex centro italiano femminile, il cosiddetto CIF, degradante edificio all'abbandono da decenni, collocato alle porte meridionali della città di Pesaro, all'intersezione fra via Colbe e la statale, a pochi passi, dall'istituto alberghiero Santa Marta. Ruspi al lavoro per sgretolare le mura di un edificio con 70 anni di vita, trascorsi dapprima come colonia estiva per le giovani generazioni del dopoguerra, poi come casa di riposo e infine come scatola vuota in progressivo degrado divenuto dimora di scorribande bivacchi. Dopo tanti tentativi di recupero andati a vuoto, lo stabile è stato venduto all'asta a fine 2022 ad imprese edili che provvederanno alla demolizione dell'edificio faticente e alla nuova costruzione di una palazzina di cinque piani destinata ad uso residenziale. La demolizione si completerà in due settimane, poi si passerà alla realizzazione di un edificio destinato a 31 appartamenti che dovrebbe essere completato a metà 2026.